ciao ciao a tutti e buongiorno dal vostro ferdi oggi è il 3 marzo del 2022 e io ritorno sempre sulla stampa specializzata motociclistica e già l'avevo fatto su quella televisiva criticando un servizio del tg2 motori sulla meteor che era piena zeppa di errori e niente mi hanno chiamato pignolo mi hanno chiamato a vedere però nell'uovo che ti aspettavi di più ragazzi questi sono giornalisti sono dei professionisti come se voi andate dal meccanico per fare un lavoro sulla vostra moto me la sbagliano e allora lì che facciamo gli dite che siete pignoli se no niente è il loro lavoro e va fatto bene siamo tanto per continuare dei degli strafalcioni siamo sulla pagina di motociclismo e andiamo a vedere questo articolo qui guardate nuova royal enfield constellation cosa bolle in pentola dice il nostro caro beppe cucco qui c'è una bella pubblicità lo tagliamo il nostro caro beppe cucco che ci dice nuova royal enfield cosa bolle in pentola è stato registrato un nuovo nome però il nostro beppe cucco evidentemente non conosce la storia di royal enfield perché non si chiama constellation constellation l'hanno 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 corretta dopo il mio post questo qua l'hanno corretta allora andiamo a vedere il mio post di ieri aspettate allora su the royal fan ahahahah inschia che è incredibile allora guardiamolo eccola qui guardate allora guardate questo era uno screenshot di ieri sempre del stesso articolo che era sempre di beppe cucco nuova royal enfield constellation cosa bolle in pentola io gli avevo scritto anche la celebre rivista motociclismo ha toppato con la royal enfield chiama il futuro nuovo modello che è constellation nel più comodo e canalizzato constellation cioè senza la n e non mi dite che non è da poco perché è ripetuto ora i nostri cari amici di motociclismo hanno 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 corretto finalmente l'errore che avevano fatto andiamo a vedere qua andiamo a vedere qua dov'è lo vedete questo è l'articolo che c'è ora l'hanno corretto l'hanno corretto l'hanno corretto ho fatto pure qui era tutto tutto scritto va bene bravo bravo almeno 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 vi siete informati di questo ve ne do merito io già stavo preparando un bel video per farvi un bel cazziatone niente non posso farvelo ora perché avete corretto va bene bravi bravi amici di motociclismo di motociclismo dal 1914 fare questi errori era un po grave va bene ciao ciao da ferdi ciao ha 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 ha